Salve a tutti ragazzi sono sempre Iomanz, benvenuti di questo nuovo video sul mio canale, siamo ritori qui con la carriera d'allenatore con il nostro Newcastle Signori oggi è un episodio veramente veramente molto importante perché andremo a fare la parita contro il Wolverhampton Il terzo turno di FL Cup contro l'Eister City e la parita contro l'Aston Villa Signori vi ricordo che questa carriera d'allenatore è in parallelo con il buon Homme Avete già visto un assaggio di quello che potrà essere questa carriera con l'amichevole che abbiamo fatto Sostenete la serie, a fine video ci sarà appunto la scheda con il video di Homme Quindi andate sul suo canale se ancora non siete iscritti iscrivetevi e guardatevi i suoi video di questa carriera con il Nottingham Forest Della sua carriera con il Nottingham Forest Signori direi di non perderci in chiacchiere perché appunto abbiamo un episodio abbastanza pieno Andiamo a farci la parita contro l'Uolverhampton Attenzione, attenzione proprio per... io metto questa maglia perché quella verde col campo verde non si può vedere Attenzione perché abbiamo la partita appunto di FL Cup Quindi voglio che i miei giocatori siano in grado diciamo Siano tutti belli carichi pronti per giocare In questo caso direi di dare spazio ad Isaac con Perez là davanti A destra ci andrei con Ricci e a centrocampo andrei con Aiden senza dubbio E siamo un po' in difficoltà Siamo un po' in difficoltà a questo punto ci andrei con Diame Farei giocare anche a Udero raga perché voglio voglio vederlo un attimo all'opera Perfetto signori, pronti a subentrare invece Gale, Shelby, Armstrong, Tovan, Otavion, Bemba e Cels Siamo pronti per questa partita di Championship Siamo al San James'Espark Mi raccomando signori sempre sul pezzo perché al San James'Espark si deve far fatica a passare Si deve fare molta fatica a passare Sempre sul pezzo signori e forza Newcastle Siamo qui al San James'Espark Debutto giocatore al San James'Espark per Alexander Isaac Diciamo che è il debutto da titolare se non sbaglio Non me lo ricordo sinceramente ragazzi Ho tante aspettative da questo giovane Attenzione a Perez, è passato in qualche modo C'è largo Jesus Games che ci prova col destro Ikeme Grande parata Attenzione a Matt Ricci Ricupera un gran pallone Ricci, 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 bella la parola per Isaac Attenzione a Isaac Davanti al portiere Isaac col destro E' troppo alta E' troppo alta Attenzione a Bodvarsson Ci prova col destro Rezzos qui fa una gran chiusura Poi Hayden La spizza per Isaac Se la va a prendere Isaac La gioca con Perez Perez viene messo giù Saraffallo Punizione per Newcastle Andiamo Lancio per Aros Stavolta è bello Aros riesce a metterla in mezzo C'è in mezzo Perez Poi Lazar ci prova col mancino E guadagniamo un bel calcio d'angolo Ricci Dove c'è GAMES Che stacca Core Ikeme Di nuovo calcio d'angolo Attenzione a Mezzon Mezzon è passato Mezzon Audero in calcio d'angolo Attenzione a Price Price Il tiro di Price Ancora un tiro fuori misura E si conclude così Il primo tempo Di Newcastle Wolverhampton Un Newcastle Che probabilmente Ha creato di più Del Wolverhampton Ma che comunque Non sta facendo le cose Con Con l'intensità Alla quale eravamo Abituati Arons Per Aiden Vincio contrasto La palla arriva a Perez Perez Col destro Ikeme In calcio d'angolo Di a me Per Otavio 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 Ancora lui Se ne è andato in qualche modo La palla è per Dwight Gale Gale Si è metto sul destro Gale L'appoggia Il palo E poi Aiden Aiden 1-0 Newcastle Signori L'asse Otavio Gale Porta in vantaggio Il Newcastle Mamma mia Cosa ha fatto Otavio Raga Cosa ha fatto Otavio Mamma mia Che spettacolo Che spettacolo Rivediamo qui Gale Se l'ha messo sul destro Ha fintato Il tiro purtroppo Va a finire sul palo Nessuno si cura di Aiden Che zitto zitto Quattro quattro La butta in porta Senza nessun problema Gale Gale Di nuovo per Aiden Ci riprova col destro Signori Un palo clamoroso Di Aiden Un palo clamoroso Di Aiden Veramente non ho parole Per descrivere questo tiro Calcio d'angolo Per Wolverhamton Il primo della partita Attenzione Esce Udero Con quanta sicurezza Diamea Attenzione a Diamea Che è stanchissimo Ma può andare Più veloce Dei centrali difensivi Diamee 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 Davanti a Ikeme Diamee La palla è uscita di pochissimo È finita signori È finita Tre punti di ignoranza Tre punti di Di fisico Di corsa Di testa Di tutto Raga Veramente questa squadra Mi sta facendo Sognare Questa squadra Mi sta facendo sognare 14 tiri a 8 Raga Ma di che stiamo parlando Veramente superiore A tutto Hayden Hayden fenomenale Oggi Hayden veramente fortissimo È un 68 di overall Ma come ci fa A dare 68 di overall A sto ragazzo Signore Ottimo il lavoro Volevamo solo ringraziarti Per il tuo contributo Nell'aggiungimento Degli obiettivi del club Fama del brand Previsti per la stagione L'obiettivo era Guadagni almeno 15 milioni Dalla vendita delle magliette Questa stagione Non ce l'avremmo fatta Senza di te Armstrong sale al 72 Raga Armstrong sale al 72 Al prossimo allenamento Anche Isaac Salirà al 69 Andiamo a simulare Lee Rezzos E Audero Rezzos sale al 68 Invece Spettacolo 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 Raga Siamo pronti Tutto è pronto Per questa parietta Contro Il Leicester City Direi che Possiamo andare a fare La formazione Senza problemi Ho già un'idea Siamo a San James' Park Tra l'altro Spettacolo Tutto è pronto Per questa partita Sempre sul pezzo Signori E forza Newcastle Forza Dobbiamo dimostrare Veramente Alla nostra gente Che la vittoria Non è stata Che la vittoria Contro il Tottenham Non è stato un caso Andiamo Era tutto pronto A San James' Park Per questo terzo turno Di EFL Cup Newcastle Leicester City Siamo contro Il buon Federico Marconi Signori Eccoci qua Tutto pronto Esatto Esatto Buon pomeriggio Atmosfera Che si respira Perché è una gran partita Questa Tra due grandi allenatori Modesti a parte E beh La tensione però Si taglia a fette Perché qua Il Newcastle Deve dimostrare Che la vittoria Contro il Tottenham Non è stata un caso E quindi Passare anche E battere il Leicester Sarebbe veramente Un gran salto Di qualità Attenzione qui Alla sponda di Gale Per Otavio Otavio Se la mette sul destro Fermato Però Dal terzino destro Non so Marchignos Marchignos Difensore centrale Nella difesa 3 Del Leicester Dembélé qui Prova a verticalizzare Per Vardy Leicester che sta Giocando molto Con la palla alta Si dovrebbe forse Cercare di più Il palleggio Dato che comunque Tecnicamente ci siamo Allora Dembélé Osserva Vardy Serve invece Niang La copertura di Edlin È ottima Van de Bic qua Per Toven Sulla fascia destra Toven Armstrong Può andare di nuovo Toven Juicester con la solita Formazione a 4-4-2 Ancora Edlin Sulla fascia Edlin La mette in mezzo È bella dove c'è Armstrong Che colpisce Mamma mia Ziller Sempre pronto Il tedesco Mamma mia Che gran parata Qua Gran cross di Edlin Che stacco Incredibile di Armstrong Tra l'altro Tra Morgan Eh sì Tra l'altro Stacco tra Morgan E Lovren No chi è Sì Lovren Lovren Quindi Non è facile Staccare tra i due Ottavio dalla bandierina C'è Mbemba Morgan Ancora il calcio d'angolo Inquadrato Ziller Che è veramente Protagonista Vista poco fa Certo Guarda che parata ha fatto Mamma mia Tantissima roba Sta parata Dietro ci siamo Per quanto riguarda Il Leicester Coverture Con la difesa Molto reattiva È davanti che pecchiamo ancora Ma vediamo Noi ancora Vardi Inserimento di Niang Che calcio importa Mamma mia Sels Qui la parata La fa Sels E Yedlin può ripartire Può andare Yedlin Deandre Yedlin Per Toven Toven Con calma Non c'ha fretta Van de Bic Per Armstrong Non si passa Lì come Intanto è scoperto Quel Newcastle Se ne ha accorto Dembélé Che manda rete Niang Ottimo stop Osserva Vardi Ma lo serve male Ancora Ottavio Per Dwight Gale 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 è andato Gale davanti a Ziller Ci provo col mancino Ancora Ziller Ancora Ziller Ancora Ziller Importantissimo Il portiere Invece Era un destro Quello di Dwight Gale Leicester Che si è fatta cogliere Lì dietro In preparata Stavolta Intanto Toven Attenzione Van de Bic Qui è stato bravissimo A saltare E a staccare Soprattutto verso la porta Però mi permetto di dire Leicester non irresistibile Ne sta approfittando Il Newcastle Dalle fasce Perché le occasioni Anche la prima del match Arrivata su un colpo di testa Adesso deve reagire La squadra di Marconi Che prova subito Ad allargare Il gioco su Alexandro Il cross di prima intenzione Presidente ha ricambiato il gioco Palla verso Marez Anticipato Attenzione Quella ripartenza Armstrong Di nuovo per Dwight Gale Grande chiusura di Morgan Poi Dembélé Scambia con Vardy C'è ancora Gemini Che parte Dembélé Se ne è accorto Lo manda a rete Attenzione Vardy Narete Ricorito Ci mette la gamba E la pareggia subito Gemini Vardy L'uomo più atteso Fa 1 a 1 E risponde All'1 a 0 del Newcastle Non ho ben capito Perché Benmi Non ha intervenuto Eh ma ci ha messo La gamba in spaccata Pensavo Venisse anticipato Vardy Guarda qui Era in anticipo Il tuo giocatore Ma proprio non ha fatto Non ha proprio fatto L'intervento Benmi No Voleva solamente Andare sul pallone Vardy Gliela scippa Un gol d'astuzia 1 a 1 E comunque si prospetta Una bella partita Sì decisamente Yadlin Armstrong Armstrong Poverino Fisicamente non ce la fa Non può resistere Attenzione a Gale Ci provo col mancino Mamma mia L'incrocio dei pali Ma Gale è Un'arma letale La certezza È che noi Non facciamo partite scontate Se ti ricordi anche su FIFA 15 Ma qui vuole ripartire lei Stare ancora in serimento Di Vardy Che vuole correre Barreca è eccellente Sì Barreca è veramente forte Ma Gale le prende tutte Signori Gale le prende tutte Van de Beek Attenzione C'è Armstrong che è partito Marchinius Gran chiusura Finito qui Finisce qui il primo tempo Signori Una partita splendida Veramente Come si prospettava Qua Inquadrato Dwight Gale Sicuramente Migliore in capo Per il momento Io chiesto che comunque Non 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 si tira indietro No assolutamente Il prova giustamente Vuole legittimare Come hai detto tu La vittoria contro il Tottenham Contro i campioni D'Inghilterra Della passata stagione E allora si ricomincia Con il Leister In possesso di palla La fa girare Il centro campo Del Leister Poi visto Un grande inserimento Di Alexander In posizione regolare Vuole metterla dentro Sta arrivando Nihang Sulla traversa E pareggia il palo Che hai preso tu Nel primo tempo Confermo che è una partita Spettacolare Bisogna stare sempre Concentrati però Il Pieleman se sbaglia Ha perso tantissimi Palloni a centro campo Armstrong Armstrong Davanti a Ziller Armstrong Il Lucas Di nuovo avanti Con Armstrong Il nostro gioiellino Signori 2 a 1 E sfruttiamo qui Una disattenzione Della Leister Clamorosa Al meglio Mamma mia Qui Armstrong Di velocità Sull'ovren E Morgan E infila Ziller Sulla destra Molto bene Adam Armstrong Benissimo Armstrong Meno bene Tieleman Tieleman Che è recidivo Perché Ha sbagliato tantissimi Valoni a centro campo Vediamo se Dopo aver causato Il gol Del Newcastle Si sveglia Si dà una svegliata Eccolo qua Il nostro Cristiano Ronaldo Otavio Può andare Antonio Barreca È velocissimo Mendy Shalvey Gale Per Giorgio Shalvey Di nuovo Di nuovo per Gale Gale Col destro La palla esce di pochissimo Mario Cashel Sta giocando Veramente Veramente Molto bene Sì infatti Volevo dirti due cose Una complimenti All'azione Che è uscita Veramente bella Due La difesa Del Leister Dov'era Morgan si è Tirato indietro Intanto Attenzione Attenzione Mamma mia Ziller Sì anche a me Ora comunque Ci prova Il Leister Bella palla Di dembele verticale Per Alexandro De Filato Prende il fondo Mette dentro C'è Niang che non arriva Arriva Vardy Mamma mia Raga Ma cosa è successo Qui Solitamente questi Sono tutti i gol Tutti Perché Niang ha bucato L'intervento Poi Vardy Ha stoppato Anziché calciare Di prima intenzione Ancora Vandebic Attenzione Poi parte Vardy Centrale Attenzione Benmi che chiusura Rimasto giù Vardy Che si fa male Dieci volte su cinque Quando gioca E ancora Barreca Quindi Dembele Si allarga molto bene Il gioco su Alexandro Che la mette giù Sceglie di crossare Con calma Junusovic Che cosa è successo Poi Dembele La palla resta lì Il tuo portiere Dov'era Ma cosa sta succedendo Il tuo portiere Ma cosa sta succedendo Io non so cosa è successo Non so perché non è uscito Il portiere A Shelby Ma non so Non so per cosa Forse un fallo fatto in precedenza Un fallo Ah si si Questo qui Brutto fallo in ritardo Si Ok diciamo che Si 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 Col corpo ci sta Faccio un cambio io adesso Ora Junusovic Largo Poi subisce fallo Junusovic Si gioca comunque Marez Dentro da Mendy Col pallone che non arriva No ma cosa stanno facendo Poi però ci viene restituito Marez Per Vardy Vuole attaccare La porta a Gemini Al centro c'è solo Vendì la palla dentro Per Vendì Arretta Mamma mia Per me cosa ha salvato Signori Non so se Poteva essere Considerato Mamma mia Cosa ho sbagliato Musa Musa in zona tiro Carica il destro Fuori di un nulla Che ci serva di lezione Non si può perdere Un pallone così Al novantesimo Di una parete così importante Quindi Sels Su Dove nessuno la può prendere Matt Ricci Arons E' finita E' finita Newcastle Supera Anche Questa sfida E va avanti Probabilmente arriva agli ottavi Di FL Cup Ma che partita abbiamo fatto Signori Che partita incredibile Bella bella Ovviamente Da parte mia C'è il ramarico Per l'errore di T.Elemans Che poi assomigliava un po' All'errore tuo nel finale Con l'una differenza Che un pallone è entrato L'altro no Per il resto Bella partita E grande Newcastle Indipendentemente dal risultato finale Per la prestazione Penso che questa squadra Possa fare benissimo Da qui in avanti Lo sta già facendo In ora E quindi Direi che l'anno prossimo Come ti ho detto In quella fatidica telefonata Non vedo l'ora di rivedere Questo Newcastle In Premier League Per magari batterti Perché ho una rivincita Da prendere Decisamente Questa Brucia Brucia Scherzo ovviamente Io sono contentissimo Di aver battuto Una grande squadra Che si è ulteriormente Rinforzata In questo Calcio a mercato estivo Quindi sono molto contento Per i miei ragazzi Che si meritano Tutto questo Come ho già detto All'inizio Non meritano Secondo me La championship Hanno tanta qualità E meritano Al più pesto Di tornare in Premier League Comunque A parte tutto Fede Ti ringrazio Per essere Stato qua sul mio canale Ci vediamo presto Per un'altra sfida Chi lo sa Assolutamente Prestissimo Direi Allora un saluto Un saluto a tutti Un bacione Ciao Fede Ciao ciao Come potete vedere Questi sono i dati Una partita Clamorosa Una partita Veramente molto Ma molto Equilibrata 7 tiri A testa 5 tiri in porta Per il Newcastle E 4 per il Leicester Con un possesso palla Che è stato Dalla parte Del Newcastle Con un 52% E un 48% Per il Leicester Tutto sommato Una partita Davvero Davvero Molto Equilibrata Signori Siamo andati Avanti Siamo andati Avanti Nella coppa Abbiamo battuto Un grandissimo Leicester Abbiamo fatto Una prova Veramente Incredibile Signori Questi Newcastle Qui Non molla Mai Non molla Mai Veramente Abbiamo battuto Come potete vedere Il Leicester 2 a 1 Abbiamo la partita Con la Stoneville Adesso Ma vediamo Se si sa Già Contro Chi Saremo Alla prossima Non si sa Ma raga Sono veramente Orgoglioso E contentissimo Di come Stanno giocando I miei Giocatori Sì Siamo contro Lo Swansea Siamo contro Lo Swansea Non so Se sono Gli ottavi Non so se sono Gli ottavi Voglio vedere Sì signori Sono gli ottavi Siamo contro Lo Swansea Una squadra Di Premier League Ok raga Andiamo a fare La formazione Siamo fuori casa Quindi direi Che comunque Possiamo andarci Con questa Con questa divisa Vediamo come Sono messi I nostri Dentro Armstrong Al posto Di Perez Perfetto Raga Formazione Fatta Fattissima Siamo al Villapark Sels Barreca Mbemba La Shell Yedlin Tovena Destra Hayden Shelby Ottavio Armstrong E Dwight Gayle Signore Sempre sul pezzo E Fozza Newcastle Questa è una partita Molto importante Perché la Stoneville È una di quelle squadre Che comunque Vorrà tornare in Premier League Al più presto E quindi giocherà con tutta La cattiveria E l'agonismo Che ci potrà essere Ottavio C'è in mezzo Gayle Gayle col mancino Attenzione perché arriva Hayden Ancora Ban Signori Sembrava Il gol fotocopia Che abbiamo fatto Contro il Wolverhampton Gayle è un approfittatore Ottavio Dalla banderina Dove c'è Mbemba Amavi La mette fuori Attenzione a Yedlin Ottavio Si è liberato Ottavio Può metterla di nuovo in mezzo Amavi In calcio d'angolo Attenzione a Koggia È passato Koggia In mezzo c'è Yedlin Che fa un'ottima copertura Per fortuna Raga Attenzione a Jedinac McCormack Hayden Gran palla recuperata Possiamo ripartire Con Ottavio Armstrong Armstrong C'è Gale Si fa vedere Gale Dwight Gale Può andare Bella la palla per Toven Toven Davanti a Ban Dove l'ha tirata Toven Ma perché Per quale motivo Mi tirano così Ci poteva stare il gol Al 45esimo Sarebbe stato veramente ottimo Passare in vantaggio Sul finire del primo tempo E finisce adesso il primo tempo 0-0 Tra Stoneville e Newcastle La mia formazione si sta comportando Veramente molto bene Come potete vedere dai Dai dati Come al solito Devo dire Come al solito Attenzione qui al tiro Shels Che parata Se l'ha andato benissimo Il giocatore della Stoneville Cody Co Co Koggia Koggia Se l'ha andato benissimo Shels qui ha fatto veramente Un miracolo Può andare adesso ancora Armstrong Viene steccato Per fortuna che c'è Aiden Che lo accompagna Aiden poi Per Armstrong Armstrong è entrato in aria Steso Toven Sarà calcio di rigore Per il Newcastle Fallo ingenuo Fallo ingenuo Veramente Insensato Tra l'altro il fallo È stato fatto su Toven Non Armstrong Che aveva il pallone Come potete vedere Fallo su Toven Adesso c'è La possibilità Per il Newcastle Di passare in vantaggio Con Dwight Gale Che lo segna 1-0 Newcastle Gran calcio di rigore Di Dwight Gale Attenzione alla Shell La mettono in mezzo Yedrin Poi Ottavio La lascia lì Non ci voglio credere Non ci voglio credere Ottavio L'ha lasciata lì Guarda L'ha passata Veramente clamoroso Alla sua seconda occasione McCormack La butta dentro Dopo 3 minuti Dopo 3 minuti Raga Shelby C'è Hayden Hayden è passato Hayden Il tiro orrendo di Hayden Il tiro bruttissimo di Hayden Ha preso male male Armstrong Chiuso però Armstrong di nuovo Per Gale Col destro Ban La para Barreca Passa da Armstrong Armstrong Bella la palla Per Gale Gale l'appoggia Ban col piede Ban col piede Miracolo veramente Qua del portiere Attenzione qui a Grealish È passato Grealish Ma ha fatto Schels Miracolo E finisce qui Signori 1-1 Grande partita Bellissima partita Devo dire Purtroppo Purtroppo buttiamo via Troppi punti Andiamo simulare Andiamo a simulare anche gli altri allenamenti Con Lee Rezzos Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti